Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Ecco chi è il bellissimo fratello del bonus della trasmissione di Canale 5 Avanti Un Altro, Daniel Nilsson Scopriamo insieme il suo volto.Avanti Un Altro Bonus.Daniel Nilsson è il nome del celebre bonus di Avanti Un Altro, uno dei personaggi più amati della trasmissione di Canale 5 condotta da Paolo Bonolis A quanto pare, essere belli è proprio un vizio di famiglia, visto che il giovane ha un fratello che non ha nulla da invidiargli Scopriamolo insieme.Tutto su Daniel Nilsson, il bonus di Avanti Un Altro Daniel Nilsson nasce a Malmo, in Svezia, il 26 gennaio del 1980 Oggi ha 42 anni portati benissimo.Inizia la sua carriera lavorativa nella lontanissima Australia, paese che lo accoglie come modello e surfista Dopo questa esperienza, il giovane si trasferisce in Italia dove prosegue il suo percorso nel mondo della moda e della pubblicità Collabora con brand come Colmar e Caffè Noir, dopodiché, nel 2011, entra nel cast di Avanti Un Altro, nel ruolo di bonus Qui, infatti, interviene tentando di distrarre le concorrenti grazie al suo immenso fascino e allo stesso tempo, in causa di vittoria, permette il raddoppio del bottino Il bonus di Avanti Un Altro con Paolo Bonolis.Ma non è tutto, perché Daniel ha preso parte anche alla fiction di Rai 1, Don Matteo X, e si è rivelato uno dei protagonisti di Ballando con le stelle nel 2016, dove ha partecipato in coppia della danzatrice Valeria Belozerova Il giovane si è fatto strada nel mondo dello spettacolo soprattutto grazie al suo fascino e al suo fisico scultoreo, è alto 1 metro e 86 centimetri, mentre pesa circa 85 kg A quanto pare, però, Daniel Noon è l'unico bello in famiglia, il fratello, infatti, Noon ha nulla da invidiargli Scopriamo insieme il suo volto.Ecco com'è il fratello del bonus Le fan più accaniti del bonus di Avanti Un Altro si sono messe alla ricerca di tutte le informazioni su di lui, fino a quando Noon hanno trovato addirittura i componenti della sua famiglia Uno di questi è suo fratello e si chiama Annika Nilsson. Qualche tempo fa, il giovane ha postato proprio sul suo profilo una foto in compagnia del fratello, il bonus di Canale 5 Eccola! Daniel Nilsson e il fratello.Pelle chiarissima, pelo biondo tendente al rosso, i due fratelli si somigliano moltissimo e a quanto pare sarebbero parecchio legati Tutti i fan del giovane sono rimasti stupiti dalla bellezza del fratello, evidentemente è genetica Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao